In provincia di Mantua sostenibilità e innovazione sono al centro degli investimenti in suinicoltura. A dirlo l'assessore regionale Rolfi questa mattina in visita all'allevamento Pigli di Pego Niaga, fresco vincitore del premio nazionale Innovazione in Agricoltura. Sostenibilità e innovazione sono il futuro dell'agricoltura, un futuro che in provincia di Mantua è già realtà. Lo ha testato con mano l'assessore regionale Fabio Rolfi in visita all'allevamento Pigli di Pego Niaga, un'azienda che guarda avanti fresca vincitrice del premio nazionale Innovazione di Confagricoltura. I allevamenti intensivi così tanto denunciati possono essere in realtà un esempio di benessere animale, di sostenibilità ambientale, di innovazione, di prodotti di qualità e sicuri, prodotti fatti anche con la garanzia antibiotic free proprio grazie a tecniche di allevamento attente al benessere, evolute, innovative e attente all'ambiente. L'allevamento Pigli a Pego Niaga è un esempio virtuoso di come la suinicoltura possa sposarsi con il massimo grado di rispetto per l'ambiente e il benessere animale. Ogni anno tra svezzamento e ingrasso stesso del sito mantovano transitano non meno di 18.000 capi per un giro di affari annuo di circa 3 milioni e mezzo di euro. L'allevamento è parte del circuito DOP del prosciutto San Daniele e l'estrema innovazione è premiata anche dal consumatore finale. L'allevamento è entrato in funzione nel 2017 e oggi è il primo ad aver realizzato una struttura di questo tipo, completamente sostenibile e soprattutto antibiotic free. Noi dobbiamo con forza e con orgoglio comunicare questi numeri, comunicare questa realtà per smontare le fake news che leggiamo tutti i giorni e magari anche orientate da interessi stranieri che vogliono denigrare l'agroalimentare italiano. Dobbiamo difenderla, raccontarla la realtà di un tessuto fatto di aziende, di famiglie, di lavoratori importanti per l'economia della penura pagana e difendere un modello che è quello che offre i prodotti alimentari di qualità più importanti portabandire da me in Italia nel mondo.